ci fu una volta il rinascimento e l'uomo che lo incarnò a distanza di secoli la sua luce ancora ci fa ombra ma le ragioni della sua arte si oscurano sempre più leonardo pittore architetto musico scienziato bambino la necessità in un mondo selvaggio e meraviglioso di capire il perché delle cose una curiosità insaziabile più forte del pericolo più potente della paura leonardo genio perché genio in una notte di fantasmi la storia si riveste di carne e passioni raccontata dall'unica strana famiglia che ebbe in vita l'eccezionale esistenza di un eterno ragazzino che tra luci e ombre in mezzo a sovrani raffinati papi guerrieri e feroci tiranni rivoluzionò il mondo conosciuto e fece di se stesso un capolavoro